Possiamo dire che stiamo assistendo a una delle edizioni della Vuelta in Spagna più belle di sempre? Forse sto esagerando, non lo so, ditemi anche voi, però devo dire che in questa prima settimana ci siamo divertiti veramente, veramente, ma veramente tanto. Ne parliamo dopo la sigla. Cari amiche e cari amici appassionati di ciclismo, ben ritrovati qui su Ventaglio Cycling Podcast e oggi torniamo a parlare di grande ciclismo, torniamo a parlare di Vuelta a Spagna edizione 2024 perché abbiamo assistito a delle giornate veramente divertenti, veramente movimentate, veramente intense. Nove tappe, avevamo detto in fase di presentazione, una buona prima settimana ma non particolarmente dura e invece in nove tappe abbiamo visto veramente di tutto, fuga e bidone, crolli, ritorni di fiamma, rivincite, pronostici rispettati e pronostici sorprendenti, veramente, veramente di tutto, ci siamo veramente divertiti. Stato di fatto che dopo nove tappe la situazione della classifica è la seguente, vediamo Ben Oconor in maglia rosa, saldamente in maglia rosa, dopo appunto nove giornate grazie alla grande impresa, la grande fuga fatta nella tappa di Junquera che ha permesso con un'azione che possiamo definire arrojana ma forse anche riduttivo di andare al comando della classifica generale, al secondo posto c'è Primoz Roglic, che ha dato l'impressione per otto giorni di essere il più forte in salita e non solo due vittorie di tappa per lo sloveno che sembrava un uomo da battere, poi però ieri nella tappa di Granata ha dato qualche piccolo segno di cedimento, forse la condizione, complice di infortunio al Tour de France eccetera eccetera, non è stata delle migliori. Terzo posto a 4.32 troviamo l'Equadoregno Richard Carapaz che, partito con l'obiettivo di vincere la Vuelta, ha perso terreno, ha perso tanto terreno nelle prime tappe di montagna, ma ieri con una bellissima azione di 50 km si è riportato sotto in classifica ora è terzo e potrebbe rientrare nei giochi per la vittoria finale, perché no, perché comunque la gamba sembra essere buona, a seguire Eric Mas, che è il solito Mas della Vuelta, un Mas della Vuelta convinto, convincente, forte in salita e concentrato. Ieri una salita, una sbavatura nella discesa verso Granata, lungo l'alto della Lanzana, a Zalianas, dove aveva saccato tutti gli avversari per la classifica, gli ha costato da caro, gli ha impedito di guadagnare qualche secondo su Primozoroglic, ma comunque è sempre lì, quarto posto per lui, a 4.35 dalla maglia rossa, quindi Michel Landa a 5.17, poi Florian Lipovic a 5.29, settimo posto per Adam Yates. Adam Yates è quel corridore che noi avevamo detto, diciamo, che ha fatto fatica, è tornato in vita e ora è tornato anche a vincere. Lui aveva perso molto terreno nelle prime tappe, una caduta, qualche acciacco fisico, di fatto che si era trovato dopo, con oltre 9 minuti, ieri è andato in fuga da lontano, si è fatto tanti chilometri, più di 60 chilometri in fuga solitaria, alla fine ha vinto la tappa con 3.45 di vantaggio sul gruppo, che gli ha permesso di tornare in top 10, guadagnare 20 posizioni in classifica, ora è a 5.30 dalla maglia rossa, ma diciamo che è un distacchio importante, ma comunque ora è a 1.40 da Primoz Roglic, quindi in piena lotta per un posto sul podio, ammesso che lo Yates, visto ieri, non è stato lo Yates versione fuga rigiornata, e poi torniamo nell'anonimato, ma continuerà a essere costante e convinto, anche perché la UAE Emirates, ricordiamo che ha perso, Joao Almeida per costretto al ritiro, per la positività al Covid-19, ottavo posto per Felix Gall a 5.30 come Yates, quindi Carlos Rodríguez a 6 minuti, anche lui, lo spagnolo dell'Aineos, partenza difficile, poi segnali di vita proprio nella tappa di ieri, in cui è riuscito a tenere il passo nei migliori, cosa che invece non hanno fatto altri corritori molto attesi alla partenza, in particolare Mattias Chielmose, Leonard Van Etvelt, e soprattutto il vincitore in carica della Vuelta Sepkus, che sta facendo fatica, naviga a 8.16 dalla maglia rossa, e difficilmente potrà fare fatica anche a rientrare nella top 10, salvo chiaramente cambi di situazione, e diciamo, visto quanto abbiamo visto fino a oggi, con ribaltamenti, cambi di scenari e sorprese, non escluderei che anche Sep Kusto possa in qualche modo ritornare su. Il migliore degli italiani nel momento in classifica è Lorenzo Fortunato, purtroppo abbiamo perso anche per una positività al Covid-19, Antonio Di Berry, che fino a ieri era in classifica, maia bianca ieri crollata, ha finito la tappa, ma è stato costretto al ritiro, quindi purtroppo ancora una volta i problemi di salute sono un po' fatali anche per l'ambizione di alcuni corridori, e una Vuelta però più aperta che mai, nel senso che O'Connor dopo aver fatto fatica sabato nella prima tappa, con arrivo a Casorla, ha perso una quarantina di secondi da Roglic, dopo averlo provato a seguire, ieri a Granata ha sembrato controllare agevolmente la situazione, aiutato da un ottimo Felix Gall, e Roglic deve faticare, deve faticare, il terreno non manca, ma non sarà facile andare a riprendere questi minuti all'Australiano, che ricordiamo è uno che ha nel Palmares un quarto posto al giro, un quarto posto al tour, quindi non è proprio l'ultimo arrivato, però il terreno c'è a partire da una seconda settimana, che prevede una tappa alla ripartenza domani da Ponte Aria a Sabagliona, con l'Alto de Mucas nel finale a circa 25 km all'arrivo, una salita di prima categoria, 10 km al 6,1%, in una situazione del genere in cui tutti devono recuperare tutto, io non mi sento di escludere che non possa accadere qualcosa, ecco magari qualche big non possa provare ad attaccare, considerando che è una salita che non durissima, ma che nel tratto centrale ha appendenze che vanno tra l'8 e il 9%. Scenario analogo, vi invito poi a vedere anche il video, va al giorno seguente, con partenza e arrivo al Campus Tecnologico Cortiso a Padron, in cui appunto si affronterà questo quarto de Crusteira, sono 2800 metri al 9,2% a 8 dall'arrivo, ebbene, in un contesto in cui tutti devono guadagnare, tutti devono attaccare, io penso che in queste giornate non vedremo grandi distacchi, ma qualcosa si muoverà in vista poi l'arrivo all'estazione di montagna di Manzaneta, che onestamente l'abbiamo battezzato con Riccardo in serie di presentazione come la Montevergine di Mercogliano Spagnolo, e farà un po' d'antipasto invece a un bel finale di settimana col Puerto de Ancares il venerdì, la tappa di Villablino con il Puerto de Leta Regios il sabato, e infine il Cuitu Negro l'ultimo giorno, quindi diciamo che da giovedì a domenica ci sarà tanto di cui parlare, però mi aspetto una seconda settimana in linea con quella prima, con tanta bagarre, tanta lotta e tanti protagonisti che potrebbero anche essere diversi, una vuelta veramente bella, una vuelta che forse ci toglie anche un grosso equivoco, nel senso che è un equivoco che in realtà era un po' sorto in occasione di qualche corsa che abbiamo visto negli ultimi anni, cioè non è che sia spettacolo solo con Roglic, con Pogaciar, con Vingegaard, con Van der Poel, ma si può avere spettacolo anche con corridori di seconda fascia, se ci sono le condizioni giuste, cioè se si creano condizioni di corsa un po' folli, la vuelta col suo percorso molto movimentato ha permesso la costruzione di una corsa folle, e chiaramente sono circostanze di gara, non era assolutamente preventivabile un andamento di questo genere, ma è chiaro che stiamo assistendo a una gara appassionante, avvincente e aperta, tutt'altro che scontata da qui a fine, perché O'Connor è saldo in testa, ma io non sono certo che possa tenere, perché ci sono Mass, Roglic, io ci rimetto dentro anche Yates, che Yates ieri è andato veramente forte in salita, e lui è uno che può uscire alla distanza, e quindi mi sento di dire che sarà una vuelta una bella seconda settimana, anche come così sarà la terza, e prepariamoci al divertimento, quindi spero che tutto possa andare per il meglio, anche da un punto di vista di condizioni di salute, visto che ci sono tanti atleti anche col Covid, che hanno contrattato il Covid-19, però penso che da qui alla fine ci divertiremo, chi è il mio favorito? Difficile da dire, perché onestamente dopo la tappa di Casorla, aver visto Roglic sulla salita di Casorla, ho detto Roglic è il più forte, e forse potrebbe mettere in difficoltà O'Connor nel giro di poco, poi l'ho visto a Granada, non mi è piaciuto per nulla, cioè nel senso tappa durissima, ho visto veramente la fatica negli occhi dei corridori, però ne aspettavo qualcosa in più da Roglic, che ha perso terreno da Mass, poi è rientrato in discesa, però comunque non è un segnale incoraggiante, secondo me, paradossalmente O'Connor non dico che aveva la gamba per saccarlo, però poteva anche giocarsela, quindi è tutto molto incerto, tutto molto in evoluzione, questo sicuramente rende tutta la corsa molto bella, peccato per le defezioni, in particolare quella di Joao Almeida, che poteva essere un ulteriore pretendente al podio, però penso che ci sia da divertirsi, Mass ad esempio è senza squadra, almeno l'impressione è questa, Roglic ha una squadra forte, perché ha Lipovic ancora in classifica, Vlasov, deve capire un po' come muovere queste pedine, perché forse per vincere la Vuelta, serve un'azione particolare, un'azione diversa, anche magari una tappa in cui non ti aspetti, se è sempre la famosa, no, fuente di Contador, però in generale appunto parlare di tappe, in cui non ti aspetti l'attacco, in cui puoi provare a inventarti qualcosa, Roglic ha le caratteristiche per farlo, ha il potenziale per farlo, ha anche una cronometro finale sicuramente dalla sua, però da qui alla cronometro succederanno tante cose, ne devono succedere tante altre, quindi non penso che possa permettersi di limare secondi di abbono, solo per la cosa, perché alla fine ieri O'Connor a Granada gli ha preso 4 secondi, perché poi appunto dalla giornata no, e alla fine perdi anche terreno, devi cercare di guagliare e subito, mi aspetto attacchi già da domani, domani e dopo domani, tappe diciamo transitorie, e poi nel lungo weekend, da giovedì fino a domenica, col cui tu negro ha ciliegia sulla torta, direi che c'è veramente tanto per divertirsi, noi nei prossimi giorni torneremo con Ventaglio Podcast, anche con Riccardo, con Gianluca, per parlare di quanto sta succedendo, per il momento io vi ringrazio, ho fatto rapidamente un po' il punto su questa bella vuelta, e vi chiedo, anche voi pensate che cosa, quale sia stato il segreto, magari il percorso, magari solo le casualità di corsa, per rendere questa corsa che non sempre ha divertito, anzi io ricordo lo scorso anno, onestamente, con la tripletta Jumbo-Wiz, ma non è stata proprio il massimo del divertimento, ma quest'anno ci sta regalando veramente tante belle emozioni, questo ci fa davvero molto molto piacere, per regalarci un finale di stagione, decisamente frizzante, io mi fermo qua, e intanto vi ringrazio, vi saluto, vi invito come al solito a iscrivervi, ai canali di Ventaglio Podcast, a seguirci su tutte le piattaforme di riproduzione, video, audio, streaming, appuntamento ai prossimi video, grazie, e buona giornata, e buona settimana!